Ancora alto il numero dei nuovi positivi in Molise, sono 528 quelli riportati nell'ultimo bollettino dell'ASREM, su 3.764 tamponi refertati, tasso di positività al 14%, sono però molti di più i guariti nelle ultime ore, 1.385 mai così tanti in un solo giorno. Cala quindi il numero degli attualmente positivi nella nostra regione è 7.737, da registrare ancora un decesso, ancora una persona anziana che era in malattie infettive, una donna di 90 anni di Isernia, 5 i ricoveri, 3 in malattie infettive e 2 in anziano fragile, da dove però c'è stata anche una dimissione. Al momento sono 50 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, 5 in rianimazione, 31 in malattie infettive e 14 in anziano fragile. Dei 528 nuovi positivi il numero più alto riguarda Termoli con 78 casi, 75 quelli di Campobasso, 41 di Isernia, 28 di Venafro, 23 di Larino, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Da venerdì addio alle mascherine all'aperto, dibattito in corso sul sistema delle colorazioni con le regioni che premono affinché venga eliminato radicalmente modificato. Il Molise è stata durante quest'ultima ondata della pandemia una delle poche regioni a rimanere sempre zona bianca, anche nei momenti più difficili. Ma proprio ora che la situazione migliora a livello nazionale, se non ci dovesse essere nei prossimi giorni un'inversione di tendenza consistente, rischia di passare in zona gialla in quanto sono state superate tutte e tre le soglie che contemporaneamente fanno scattare il cambio di colore. L'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti è poco sotto quota 900, mentre la soglia per il passaggio di fascia è 50. Le terapie intensive sono salite al 13% e la soglia d'allarme al 10. Infine i ricoveri in area medica sono sopra il 25% e la soglia di allarme al 15%. Se i numeri resteranno questi e se le regole non cambieranno, il passaggio di fascia sarà inevitabile.